Nel match clou della ventunesima giornata di eccellenza, i nerostellati si impongono sull'alba riatica conquistando una vittoria messa in ghiaccio dai pelini già nella prima mezz'ora di gioco. Mister Di Marzio si affida al collaudato schieramento che ha in avanti Palombizio Riferimento Centrale, supportato dai Sotti, con Pacella e Vitone ad agire nel cuore di una mediana completata dagli esterni Moscone e Rossi. Dall'altra parte Di Serafino può contare in attacco su Lazzarini, assistito da Florimbi in una fase avanzata che ha nell'esterno di Giorgio uno dei principali interpreti. Avvio promettente dei nerostellati pericolosi con Palombizio che non approfitta di una favorevole occasione per sbloccare il risultato. Arriva subito la risposta dell'alba con un tracciante di Florimbi che si spegne a fondo campo. Al dodicesimo su corner in favore dei nerostellati colpo proibito di Adamoli sul volto di Palombizio. Il tutto sotto lo sguardo di Francesca del Biondo della sezione di Pescara che assegna il penalty estraendo il cartellino rosso per il difensore Albense che lascia i suoi in inferiorità numerica. Sul dischetto si presenta Isotti che col suo sesto centro in campionato porta avanti i nerostellati. Parte Isotti, rete, nerostellati in vantaggio, Guglielmo Isotti. A metà del primo tempo arriva il raddoppio dei padroni di casa. Regolare la posizione di Pacella pronto a correggere in rete la conclusione in Moscone per il 2-0 di Marca Peligna. Poco dopo sussulto dell'alba triatica ma sul colpo di testa di Fabrizi meo c'è. Al ventottesimo nerostellati ancora a bersaglio sul corner di Vitone e Palombizio a firmare il 3-0 facendo scattare la legge dell'ex per la grande esultanza del pubblico di casa. La squadra di Di Marzio non si accontenta e prima dell'intervallo va vicina alla quarta rete quando Moscone si allunga il pallone al momento del dunque. In apertura del secondo tempo Nanni rileva Vitone nei nerostellati mentre nella truppa albense Di Nicola prende il posto di Antonacci. Nonostante il pesante passivo e l'inferiorità numerica l'alba adriatica non rinuncia a pungere. Al sessantesimo è Giallonardo a togliere le castagne dal fuoco ai suoi in quelle che sono le avvisaglie del gol albense realizzato da Florimbi al sessantaquattresimo. Nei nerostellati Antonucci subentra a Rossi, sull'altro fronte Liguori rileva Florimbi. Prima dell'espulsione di Ponticelli che a un quarto d'ora dal novantesimo ristabilisce la parita numerica. I peligni soffrono, Calvaresi ci prova, Mameo risponde presente. Di Marzio rinforza gli ormeggi inserendo di bacco per Palombizio con i nerostellati che chiudono gli spazi e agiscono in ripartenza. Quattro minuti di recupero e al triplice fischio finale parte la festa nerostellata per l'undicesima vittoria in campionato che avvicina sempre di più una salvezza aritmetica ormai a un passo per la matricola del centro Abruzzo, ad oggi in zona playoff. Domenica prossima trasferta sul campo del Cupello, l'unica squadra sin qui capace di vincere Alessio Ricci. Uno stimolo in più per Pacella e compagni. Per l'ennesima volta questo gruppo sta dimostrando di valere la classifica che ha. A questo punto visto i 37 punti è giusto predicare umiltà però è giusto pure che a questo punto i ragazzi insieme a me e insieme a tutti alziamo questa sticella della difficoltà perché a questo punto è giusto che ce la possiamo giocare e ce la dobbiamo giocare come abbiamo fatto fino adesso alzando quella sticella perché ha 37 punti. Non dico che siamo salvi però dopo 20 partiti avere questi numeri ci deve far crescere in personalità di andare a questo punto e cercare di quanto meno di rimanere là sopra il più tempo possibile.